Un benvenuto in questo micro episodio fatto su un server a caso che non è di nessuno e soprattutto dobbiamo salutare il signor Lord che è qua con noi Che tra un po' muore male quindi c'è la prova della notifica della mia morte Ah ok, ma posso fare sempre tab e vedere che sei sul server Comunque a parte le troiate facciamo un attimo questo brevissimo video che ho già perso 23 secondi di vita per dirvi che i due stronzi qui elencati domani che è domenica 13 se non ho fatto male i conti Saranno al cosiddetto Torino Comics versione Christmas sto cazzo come cavolo si chiama Sì, sì, Christmas qualcosa Christmas qualcosa Natale Natale, buon nasale anche a te Buon annale No E ci saremmo tutti e due, ognuno per i cazzi suoi, no non è vero ci troviamo da qualche parte ma non so ancora dove Per chi fosse interessato io direi di stare un attimo all'occhio sulle pagine di Facebook sia la mia che sulla sua Tanto dovrebbero... Cosa 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 Ah fico, io ho trovato uno zombie E direi che ci possiamo sentire poi sulle pagine di Facebook o se almeno vi diciamo più o meno dove siamo, in che punto, perché esistiamo Per chi c'è già stato e chi non c'è già stato comunque lo scoprirà facilmente e non è così grosso da girare, quindi è facile anche trovare... No, decisamente no No, decisamente non è enorme Eh beh, vabbè pazienza Sono cose che capitano Comunque, per chi c'è... No, ho trovato un bush di copper E un bush di tin Basta Comunque, per chi c'è ci vediamo domani a Torino Saluti e baci... no, saluti e baci no Baci e abbracci No, però viva la figa ci sta Sì, anche, quello è sempre È sempre valido quello Quindi, per chi c'è ci vediamo domani Ciao a tutti Ciao Ciao